Ma non segnare vocale, segnare... segnare... Ma quindi stiamo registrando? Sì... Proviamo un po' di scopo... Ehm... Lo senti? Ahahahah Stingo lo mio penello forte 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 Stingo le cento e pazzaacidi Parlavamo di la sua passione e per gli acidi Stingo lo mio penello forte Stingo lo mio penello forte E mi sono convinto perché... Mangi gli acci Oh, io... Allora, la sua... Saluta Non mi viene Masta Aspetta... 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 Ancora video? Basta... Ancora di foto, no? Eh? Aspetta... Aspetta... È una gallina Aspetta... Aspetta... Eh scusa... È un video... C'è la mano davanti Aspetta... 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 C'è un pezzo di prezzemolo... Ai denti... Aspetta... 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 Aspetta...